Prende il via a Pesaro l'operazione Sport Sicuro. Sabato scorso è partita la distribuzione dei tamponi alle realtà sportive pesaresi. A fare la prima consegna simbolica al campo scuola è stato il sindaco Matteo Ricci, assieme all'assessore allo sport Mila della Dora, a tre delle oltre 30 società che ne hanno fatto richiesta. Si tratta della ASD Gabbiano, Snoopy e Robur e Pantere Rosa. Questo contributo di 2.500 tamponi che diamo gratuitamente alle società sportive è un aiuto a svolgere la loro attività nella massima sicurezza. A coloro che possono ancora svolgere attività in questi giorni, a coloro invece che la potranno svolgere dopo Pasqua, quando speriamo seremo usciti dalla zona rossa, sono tamponi che potranno usare per la ripartenza. Quindi ci crediamo molto a questo screening continuo, uno dei pochi modi che abbiamo per contrastare la pandemia. Ovviamente il vaccino è la risoluzione finale per sconfiggere il virus, ma nel frattempo uno screening periodico nei luoghi, nelle comunità, quindi le scuole e lo sport, sono per noi essenziali. Quindi credo che siamo uno dei pochi comuni che mette risorse proprie per aiutare in questo caso il mondo dello sport, qualche settimana fa il mondo della scuola, per aiutarli ad avere scuole e sport sicuro. Di fatto molte realtà stanno continuando a fare attività sportiva, ricordo che anche oggi pomeriggio ci sono campionati di basket, quindi di fatto ci sono società che stanno continuando. Il mio augurio è che possano riniziare tutto, perché abbiamo il mondo sportivo che è stato fortemente colpito. Quindi oltre alla gente che fa attività sportiva, sia a livello agonistico che dilettantistico, ci sono dei professionisti, dei lavoratori, quindi c'è un indotto economico importante, ci sono famiglie veramente in difficoltà. Questo è sicuramente quello dello screening, è quello che abbiamo fatto già e abbiamo dimostrato con le scuole. È un'operazione che ti può permettere di avere una fotografia istantanea, ma se viene fatto costantemente ritengo che sia un metodo veloce, efficace per poter contenere il contagio. Non essendoci però questo obbligo di tampone, l'idea dei 3.000 tamponi o di donarlo, di fare sì che ci sia una società che li possano chiedere ed avere, è un modo anche per sensibilizzare un po' tutti ad adoperarsi per fare, non è obbligatorio, però io so benissimo che alcune società si sono messe in proprio, hanno fatto collette, alcune ragazze sono andate dal loro medico, però questa cosa proposta dal comune, secondo me ha una valenza molto molto importante, perché dà quel segnale non solo di quantità, proprio come messaggio è positivissimo, per far capire che nonostante non ci sia un obbligo, tamponatevi o comunque statisi molto attenti.